. Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. Quest'oggi parleremo di quello che è avvenuto nella settimana scorsa, ci sono stati i dati sul lavoro negli Stati Uniti, dati drammatici, insomma, abbiamo visto come si è abbalzata la disoccupazione, come si siano creati, diciamo, tantissimi nuovi disoccupati. In uno scenario come questo, ovviamente, io mi aspettavo non tanto un crollo verticale e vertiginoso delle borse, però quantomeno non mi aspettavo che continuassero a salire. Questo è segno del fatto che ci sia una forza legata probabilmente a quello che è l'intervento che stanno facendo le banche centrali, e di conseguenza gli investitori, dal momento che le obbligazioni vengono acquistate dalle banche centrali, di fatto si riversano sul mercato dell'equity, sull'azionario che continua a salire. Tuttavia, io ritengo che ci sia da prendere coscienza e evitare di essere troppo esposti. Come sapete, noi cerchiamo di prediligere in questa fase delle strategie long e short, proprio per evitare di essere massivamente esposti a dei movimenti violenti sulle borse. In particolare, quest'oggi ho scelto un titolo italiano, Enel, e vi faccio vedere quali sono le considerazioni. L'idea è di fatto che possa essere un business anticiclico, quantomeno comunque stabile, diciamo, con riferimento a quelle che sono le tensioni del Covid. Avevamo visto questa risalita molto importante, abbiamo visto il crollo, che poi c'è stato di fatto su tutti gli indici, e in questo momento il titolo sta cercando di rialzare la testa. Scendendo di time frame, andando sul grafico orario, ci rendiamo conto che effettivamente ci possono essere delle aree interessanti di acquisto, come appena sopra i 6 euro, con stop sotto i 6 euro. L'idea però è quella, se andiamo long di un titolo azionario, è di farlo con, diciamo, degli stop e dei target abbastanza stretti, perché, soprattutto sulla parte degli stop, perché, come sapete, se il mercato dovesse invertire, si dice spesso, si sale con le scale, si scende con l'ascensore, dobbiamo essere pronti a uscire dalle posizioni quanto prima. Ma voliamo subito sul sito di BNP Paribas e vi faccio vedere come trovare il certificato che ho scelto io. Clicchiamo su certificati a leva, Turbo Certificate, e andiamo a selezionare a sottostante Enel, che è quello che abbiamo scelto. Ovviamente si parla di un prodotto long e in particolare abbiamo scelto un prodotto con una leva abbastanza bassa, 4,09. Annulla completamente il suo valore a 4,65 euro. Quindi il certificato adesso quota 1,60 euro, più o meno, e qualora Enel dovesse arrivare a 4,65 euro, noi avremmo già chiuso la posizione, non l'aveste fatto, perdereste 1,60 euro a certificato. Quindi poi dovrete pesare la vostra esposizione sulla base appunto di quanti certificati avete acquistato. Voliamo quindi subito sulla piattaforma che utilizzo per Turbo Daily, ho inserito il codice ISIN, questo è il book di negoziazione. L'idea è quella appunto, come abbiamo detto, di acquistare su prezzi più bassi, quindi inseriremo i nostri mille pezzi a 1,52 euro, quindi abbastanza distante dai prezzi che vengono battuti in questo momento, e andiamo a inserire il nostro ordine. Ecco, a livello proprio operativo, vi posso dire che secondo me in questa fase, anche entrando su dei livelli più bassi, qualora dovesse esserci uno storno, diciamo sono ingressi migliori. Quindi pesiamo stop e target sulla base di quello che vediamo nell'arco della giornata. Qui ovviamente per esigenze di trasmissione non posso, come dire, non posso star troppo lontano, però diciamo che l'idea è quella di privilegiare la prudenza. Da parte appunto, adesso andiamo a ricapitolare quello che è il nostro trade, stiamo parlando di un'operatività a rialzo, ovviamente, su Enel, quindi il nostro long, ingresso a 6,11 euro, stop loss 5,91 euro, quindi ci teniamo un 20 centesimi più o meno di stop per un'operatività abbastanza multi-day, target 6,38 euro, più ampio rispetto allo stop che abbiamo inserito. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading. Grazie Grazie a tutti